Mi permetto di intervenire e di aggiungere questo aspetto qua. Allora, per quale motivo parliamo di PEC e altre cose? In realtà noi oggi stiamo vivendo un fenomeno che agli occhi di molti sembra recente, ma che in realtà ha avuto già a inizio 70 anni fa quando comparvero i primi mainframe sulla Terra, i primi computer di fatto. Il Covid ha solo reso cosciente alla massa questo fenomeno che sottotraccia si muoveva già da tempo, ha accelerato l'uso massivo delle nuove tecnologie nella popolazione mondiale. Infatti, per dire, secondo anche mai una società di ricerca tra videoconferenze, lezioni a distanza e intrattenimento in streaming, siamo tutti più attaccati alla rete. Mettendo infatti anche a confronto i dati del marzo 2019 con marzo 2020, quando ci fu la prima fase del lockdown, infatti l'aumento del traffico è più che raddoppiato, con picchi di addirittura di 82 e 167 terabyte per secondo. Viviamo l'automazione dei processi di lavoro. I processi stanno sempre più sostituendo il lavoro manuale per trasformare materiali e rozzi in prodotti sempre più complessi ed utili. Vi sarete anche resi conto che negli ultimi anni, come è cambiata anche la giustizia, l'introduzione delle comunicazioni a mezzo PEC con gli uffici giudiziari, negli anni l'avvio del processo telematico nel civile, nell'amministrativo, nel tributario e oggi anche nel penale. La fattura elettronica per il gratuito patrocinio, l'implementazione delle udienze da remoto nel settore civile tramite apposite piattaforme, appunto Microsoft Teams, i pagamenti telematici del contributo unificato e dei diritti di copia presso le autorità giudiziarie. Ma dietro questa prima onda si sta alzando una seconda onda molto più grande che cambierà e stravolgerà tutto. L'ascesa dell'intelligenza artificiale e della bioingegneria destabilizzeranno completamente l'economia, la società e perfino il corpo umano come finora l'abbiamo conosciuto. Oggi un avvocato rischia di essere travolto da queste onde digitali, che saranno sempre più frequenti, se non inizia da subito a mettere in ordine e in sicurezza i suoi dati, che ogni giorno produce. In aggiunta, consideriamo anche un altro fenomeno, ci troviamo di fronte a clienti più evoluti e consapevoli, sanno fare ricerche e hanno molta più possibilità di scelta di qualche anno fa nel cercare un avvocato affidabile tramite la rete. Perché di fronte a tutti questi stravolgimenti oggi parliamo della PEC, di conservare la norma, di come gestirla? Perché la PEC è la porta d'ingresso al nostro studio digitale. Di fronte a un caos di dati è necessario partire proprio dall'ingresso per fare breccia e mettere ordine. Immagino che volete, e questo è anche l'obiettivo, è stato anche di questo corso di formazione, di dare consapevolezza tali da non essere più annoverati nel 95% degli avvocati che hanno la PEC intasata. Ok, quindi alla luce anche di quello che è emerso, la cosa fondamentale è che sempre più bisogna, tra virgolette, centralizzare l'utilizzo della PEC con appositi software dedicati, che consentono anche di svuotare la PEC e tale da essere operativa e accessibile in qualsiasi momento, adottando anche delle apposite procedure di gestione. Perché è giusto quello che dice Emiliano, ma siete sicuri di voler affidare la PEC alla vostra segretaria, al vostro collaboratore di studio o al vostro praticante in assenza di una procedura di gestione? È vero sì che la PEC è nominale e fa riferimento al nominativo dell'avvocato, ma è vero anche che di fatto la PEC è, tra virgolette, aziendale, perché fa riferimento al domicilio digitale dell'avvocato e alla sua organizzazione interna. Quindi l'utilizzo di appositi software e implementando appunto con la conservazione a norma ci preserva da tutte quante queste criticità che noi abbiamo voluto mettere in luce, non per spaventarvi, ma per dare consapevolezza, perché quando uno ha consapevolezza e ha chiarezza, può eventualmente, successivamente, questo è anche un tip, un piccolo consiglio che vi passo, poter utilizzare questa conoscenza a vostro vantaggio, così da poter eventualmente voi a sollevare le vostre eccezioni telematiche in sede, per esempio, di notifica, verificare quando il collega vi notifica un atto, quando scadrà quel messaggio PEC, perché a maggior ragione a tutt'oggi la conservazione a norma di messaggi PEC non è utilizzata ancora, perché ancora non c'è consapevolezza di questo.